Il Consiglio dei Ministri ha nominato Maria Teresa Cucinotta, prefetto di Palermo, subentra a Giuseppe Forlani, andato in pensione, che era arrivato il 22 maggio del 2020 in piena pandemia e aveva coordinato tutti gli interventi per limitare la diffusione del Covid. Per Maria Teresa Cucinotta è un ritorno a Palermo, dove è nata 63 anni fa e si è laureata. Come ultimo incarico è stata prefetto di Catanzaro, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza e l'abilitazione alla professione forense nel 1985 è risultata vincitrice del concorso per cancelliere presso la Corte d'Appello di Milano. Dal 1985 ha prestato servizio per tre anni presso la prefettura di Messina, dove si è occupata del contenzioso invali di civili. Dal 1988 fino al 2007 invece ha prestato servizio presso la prefettura di Palermo, mentre dal 2015 al 2018 Maria Teresa Cucinotta è stata anche prefetto di Caltanissetta.